tutto pronto si aprono le gabbie partite le cavalle della condizionata dall'interno parte bene falconetta sacrificando un pochino a promise and myself parte bene soprattutto puerto princesa che da un numero esterno si porta subito al comando lungo la corda seconda posizione per a promise and myself che ha recuperato lasciandosi in scia proprio falconetta più al centro la pista troviamo wanna cry che è la favorita riconoscibile dai bracciali rossi poi più all'esterno lori di toni ancora più all'esterno c'è virginia la seconda linea è completata anche da visa ias che al suo esterno venere rockeby poi ancora più al centro della pista alta lune con metà gara che se n'è andata via così piuttosto velocemente ancora davanti a promise and myself nei confronti di puerto princesa al centro la pista virginia che prova a produrre lo sforzo tra questi si presenta anche wanna cry all'interno c'è atacama che ha il problema di reperire lo spazio all'esterno di tutti anche alta lune al paletto dei 200 all'esterno c'è virginia isla attaccata però da wanna cry che con uno scatto si porta in evidenza wanna cry la nuova leader della corsa wanna cry che è in vantaggio nei confronti di virginia isla wanna cry che vince e anche bene secondo posto per virginia isla e al terzo alta lune buona la prestazione a rientro per wanna cry doppietta per antonio fresu doppietta per la endo bottigaloppo e doppietta dunque anche per la razza latina vince numero 11 dello schieramento quarta affermazione in carriera per wanna cry la figlia di footsteps in the sand che colpisce a 2.65 secondo posto per virginia isla terza comunque in quota finendo in crescendo alta lune numericamente dunque 11 al primo 9 al secondo 1 al terzo eccolo qua lo slomo dell'affermazione della bellissima wanna cry vince la condizionata sui 1.200 da capanelle per la terza corsa è tutto vediamo e lasciamo scorrere le immagini anche per apprezzare con certezza il terzo posto che dovrebbe essere di alta lune anche se vicino c'è atacama quindi bisogna attendere l'ufficializzazione del risultato 11 9 e probabilmente 1 in foto con il 2 per il terzo è tutto per la terza corsa grazie a tutti